salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi faremo una prova test su quanto rumore fa il piccolo mavic mini perché comunque è un drone veramente piccolo veramente leggero ma secondo me un pochino rumoroso quindi per fare questa prova ovviamente misureremo si i db di rumore che fa il piccolo mavic mini ma per avere un confronto e avere un'idea chiara di quanto rumore faccia lo dobbiamo paragonare a qualche altro drone e quindi avremo un'idea più chiara del vero rumore che fa questo mavic mini quindi questi sono i droni che ho scelto allora primo piccolo di giaitello perché è un drone sotto i 250 grammi ed è un drone comunque molto silenzioso ovviamente il mavic mini che è il drone in questione quello che sarà il drone che terremo sott'occhio poi il paro tanafi perché è un drone che è appena sopra i 300 grammi e soprattutto perché ha come sua particolarità o meglio come una delle sue particolarità appunto la silenziosità che veramente è molto bassa e poi abbiamo il film x8 che è un drone che è discretamente rumoroso anzi direi bello rumoroso quindi avremo così un confronto tra questi droni e quando avremo i db di ogni drone potremmo dire cavoli il mavic mini fa più rumore di questo meno rumore di questo quindi è silenzioso quindi è molto rumoroso perché comunque essendo un drone così piccolo un drone che può volare in tante situazioni e quindi se è molto rumoroso diventa un po una cosa fastidiosa perché comunque attira l'attenzione della gente perché comunque da fastidio anche alle altre persone perché comunque il rumore magari in un posto molto silenzioso da fastidio anche se si può volare col drone però se fa molto rumore da fastidio quindi avere un'idea chiara di quanto rumore faccia questo secondo me mavic mini è una cosa importante per il tipo di drone che quindi adesso decolliamo ovviamente decolliamo qua sotto al mio pergolato perché il tempo è veramente indecente sta piovendo quindi sotto qual pergolato probabilmente i gps non prenderanno quindi magari gli overing di questi droni non saranno perfetti e sapete anche il perché perché gps non è sicuramente al massimo qua sotto quindi ragazzi adesso preparo tutto e facciamo questo test molto curioso non l'ho ancora fatto lo sto facendo anch'io per la prima volta adesso con voi e la cosa mi incuriosisce davvero davvero tanto perché comunque questo mavic mini secondo me a orecchio è abbastanza rumoroso però sono curioso di vedere quanto lo è più di un di un tello di un paro tanati quanto lo è in meno rispetto a un rumoroso film x8 quindi adesso partiamo col test ok siamo pronti facciamo decollare il piccolo tello ok il nostro piccolo tello si ferma in overing adesso andiamo a misurare i db di un drone che sicuramente è molto silenzioso quindi azzeriamo l'applicazione e misuriamo i db perfetto questi sono i db misurati dall'applicazione per quanto riguarda il piccolo tello quindi la prima prova l'abbiamo fatta adesso dobbiamo fare l'altra prova provare il piccolo mavic mini allora ok il mavic mini è pronto quindi facciamo decollare il piccolo mavic mini perfetto mavic mini si è fermato in overing proprio qua davanti a me in maniera perfetta overing direi superbo e andiamo a misurare i db ok possiamo fermare il mavic mini e farlo riatterrare il mavic mini mi atterra da solo mani libere perfetto dopo faremo il confronto tra i vari droni e i loro db medi e massimi e minimi quindi mettiamo via anche il mavic mini quindi adesso andiamo a provare il parot anafi drone sicuramente molto silenzioso per le sue diciamo caratteristiche ok siamo pronti a decollare col parot anafi ok parot anafi si è fermato qua davanti a noi in maniera perfetta anche lui overing perfetto anche senza gps e andiamo a misurare il suo rumore ok sta riatterrando atterraggio perfetto anche per il parot anafi e adesso non ci resta che provare lo xiaomi fimi x8 che sarà l'unico ad avere probabilmente problemi senza gps perché comunque non è che sia un drone con un overing è pazzesco già col gps senza gps potremmo andare un po' in crisi quindi ragazzi siamo pronti il film x8 è pronto sta piovendo di traverso quindi si sta bagnando tutto anche qua perché è piove di traverso anche se sono sotto al pergolato ragazzi vi dico subito che sarà difficile col film x8 perché qua così pochi satelliti vedete 11 e 12 satelliti quindi pochi per lui per avere un overing perché solo con la vpu comunque attualmente il film x8 non ha un grande overing con gps è diventato discreto nell'overing ma con un gps è forte così sono pochi vedete adesso addirittura 10 veramente pochi satelliti quindi sarà veramente difficile prendere il rumore di questo drone perché non rimarrà fermo quindi adesso ragazzi decolliamo e cerchiamo di prendere il rumore di questo drone ho anche fatto la calibrazione della bussola per essere sicuro di avere un overing allo stesso modo più possibile fermo ma non so se sarà abbastanza quindi decolliamo ok vedete che comunque l'overing scende sale se ne va avanti è così ragazzi con pochi satelliti questo drone non ha un grande overing quindi cerchiamo comunque lo stesso di fare il possibile senza andare a sbattere che comunque sono sotto a un pergolato e lo spazio è poco quindi vediamo cosa riusciamo a fare ok direi che il rumore siamo riusciti a prendere lo riatterriamo perché è veramente molto pericoloso questo drone in overing senza satelliti o meglio con pochi satelliti ok allora avete visto come veramente è critico in overing questo drone se ha pochi satelliti disponibili mentre avete visto gli altri tre droni addirittura il telo senza che non sanno neanche cos'è il gps fermo immobile e anche gli altri due droni con pochi satelliti adesso non so neanche quanti ne prendessero loro non ho neanche guardato perché anche senza satelliti hanno comunque un overing perfetto solo dato dalla vpu mentre questo solo con la vpu non sta fermo almeno attualmente è così forse all'inizio non aveva questi problemi mentre poi con tutti i vari aggiornamenti ha questo problema nel senso che con tanti satelliti ha un overing decente ma senza satelliti o con pochi satelliti no quindi sapevo che sarebbe stato critico avevo rifatto anche la calibrazione della bussola prima di decollare ma è servito a poco quindi ragazzi adesso metto via tutto sto casino perché veramente guardate che casino immane che ho in giro metto via tutto vedete che sono 10-11 satelliti quindi questo drone con così pochi satelliti manco morto mentre questi potrebbero volare anche senza satelliti e avere un overing perfetto infatti avevo volato nel bosco con questo avevo volato nel bosco con questo ma volerò nel bosco anche con questo perché anche questo il mavic mini senza satelliti è un ottimo drone in overing è un drone sicuro anche senza gps adesso metto via tutto e tiriamo le conclusioni su qual è il più rumoroso quale il meno rumoroso e in che fascia o in che posizione si va a mettere il piccolo mavic mini se si va a mettere in una fascia di rumorosità alta o una rumorosità bassa quindi adesso ragazzi fatemi raccattare un attimo tutto e tiriamo le conclusioni ok ragazzi avete visto il piccolo mavic mini si posiziona al secondo posto come silenziosità ovviamente il tello super silenzioso questo bene o male se la gioca con il paro tanafi sono lì come silenziosità e il più rumoroso anche se non di tanto pensavo peggio il film x8 poi ovviamente questo è l'overing e quando si dà gas ai motori il rumore potrebbe cambiare decisamente tipo un film x8 quando si dà gas ai motori comunque con motori così prestazionali il rumore si amplifica in maniera molto più esponenziale rispetto a un drone tipo questo addirittura un paro tanafi che quando si dà gas veramente il suono rimane più o meno come quello in overing però giusto per avere un'idea questo drone in overing fa bene o male lo stesso rumore del paro tanafi quindi un drone che è super silenzioso perché una delle sue diciamo particolarità del paro tanafi è appunto la sua silenziosità ovviamente il tello irraggiungibile super super silenzioso e il film x8 in overing pensavo peggio è stato più un incubo tentare di prendere il rumore perché l'overing non sa neanche dove sta di casa senza satellite e gps perché l'overing come avete visto senza gps non sa neanche dove sta di casa quindi è stato veramente difficile però pensavo più rumoroso invece non è arrivato neanche ai 100 dB pensavo che arrivasse almeno ai 100 dB perlomeno in overing poi ve l'ho detto quando date gas quello fa molto molto rumore quindi ragazzi spero che questo test era solo un test così giusto per spero che comunque vi sia piaciuto vi abbia dato un'idea sulla silenziosità e il rumore che fa questo piccolo Mavic Mini e quindi vi abbia dato un altro spunto se acquistare o meno questo piccolo Mavic Mini quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale questo test comparativo di rumori tra questi droni vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test ciao 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 ciao